Un caro saluto a tutti quanti, ben ritrovati con i nostri video e podcast e in questo caso parliamo di una soluzione, anzi una duplice soluzione per un duplice problema che affiggeva la grande G e ovviamente come vedete dai loghi uno era un problema di Gmail e l'altro di Google Drive. Soprattutto nel caso di Google Drive ve ne avevo parlato perché c'era un video specifico. Cosa è successo su Google Drive? Di fatto ad alcuni utenti, ovviamente non si parla di tutti gli utenti del mondo, tutto ciò che si ritrovava all'interno del proprio store cloud, che si trovava di fatto dopo maggio del 2023, di fatto la gente non si è trovata più. Questo problema non è roba da poco anche perché tantissimi pagano Google Drive, si aspettano che sia un servizio store sicuro proprio perché è il nome Google che fa assolutamente da garante di una certa quantità di servizi, ma soprattutto chiunque, questo vale per tutto quanto, paga un determinato servizio si aspetta un determinato risultato, soprattutto perché è vero che la perdita dei dati può avvenire per mille cause, mille motivi, non c'è nulla di sicuro a questo mondo e sicuramente non lo è all'interno di dati digitali, ma ancora di più, però comunque le persone danno grande importanza al proprio servizio, ripeto perché diventa, una volta c'erano tanti che avevano hard disk esterni, qui alzo la mano io, io sono uno che è un po' anziano, che va su backup di dischi esterni perché li preferisco in generale, però qual è il discorso? E' ovvio che il cloud è più veloce, quante volte non faccio backup per tanti mesi perché dico, adesso va tutto, mi dimentico, non ho voglia, non attacco il disco, eccetera, e in quel caso, oltretutto se un disco fisso si spacca, perdo comunque tutti i dati, i dischi magnetici potete andare a recuperarli, per esempio in camera bianca, ma ovviamente sono servizi che costano più di 500, 1000 euro, cose del genere, e ve lo dico perché mi è capitato lavorativamente parlando in una ventina d'anni, due barra tre volte, cose del genere, ma se li perdete su dischi classici SSD, 99% sono andati fine. Però al di là di questo aspetto, che adesso non voglio aprire questa parentesi infinita, è ovvio che il cloud è comodo, track, backup automatico, 365 lo fa del desktop, dei documenti, delle immagini, cioè tutto automatizzato, tutto super sicuro, uno si aspetta, eccetera. Nel caso di Google Drive c'è stato questo problema, che ripeto non ha afflitto tutti, però ha afflitto una buona parte di persone. Ora, ufficialmente, grande G, come la chiamo io, ha risolto questo tipo di problema. Pare, pare, che la soluzione sia stata ripristinare una sorta di cache, che aveva comunque una sorta di backup, e in parte una parte di utenti comunque sono riusciti a recuperarli, un'altra parte gli ha chiesto di recuperarli da propri backup personali, quindi insomma, la soluzione non proprio chiarissima, ecco, cioè nel senso che se la soluzione che tu mi dai alla perdita di un dato è buttami dentro i tuoi dati e io te li risistemo, cioè quindi non è una soluzione, però diciamo che dal punto di vista tecnico, tecnologico, del bug, di quello che ne avete voglia voi, quindi questo sistema è stato risolto, quindi, diciamo le corna, questo perché non si può mai sapere nulla, però pare che questa cosa qua non si ripresenterà più, hanno capito qual era il problema, lo hanno risolto, e speriamo di non avere ulteriore perdita di dati. Questo per quanto riguarda la parte Google Drive, che ripeto comunque non era robetta, però insomma è stata chiusa. L'altro problema riguarda Gmail, ed è non solo la soluzione di un bug di cui vi parlerò in questo video, ma è anche una nuova gestione della posta elettronica per quanto riguarda Gmail stesso. È una soluzione di cui vi parlo, però di fatto nessuno di voi, nessuno di noi, si accorgerà mai del fatto che ci sia stata o ci sarà questo tipo di modifica. Di fatto, intanto, che cosa è successo? Nel caso di Gmail, il 30 di novembre, persone si sono accorte che non ricevevano mail su Gmail, o non riuscivano, sempre ovviamente su Gmail, a spedire mail. E questa cosa qua ovviamente immagino che non riuscivano, perché tra l'altro io, che ricevo un buon numero di mail, non un numero esageratissimo, però un buon numero di mail, il 30 di novembre non ho rilevato problemi, cioè ripeto, non ho il flusso di un'azienda che riceve 100 mail al giorno nella propria casella, però insomma un buon numero di mail, sì, e devo dire che io non ho riscontrato il problema, quindi è ovvio che vale sempre la solita regola di applichiamo le cose con una certa, insomma, ognuno ha le proprie situazioni da sistemare, eccetera. Comunque, resta il fatto che chi ha sofferto di questo tipo di problema è dovuto al fatto che gli e-store, il sistema che gestisce la posta mondiale di Google, si è trovato a dover gestire un flusso di posta talmente esagerato, talmente vasto, talmente enorme, che ha dovuto automaticamente decelerare la possibilità di gestire il flusso di posta. Probabilmente loro, immagino, cioè che ne so, abbiano calcolato che i server spediscono, sparo numeri a caso, 2 miliardi di mail al giorno e per loro tutto questo è sempre funzionato perché magari ne avranno spedite 1 miliardo 800, eccetera, eccetera, ma in quel momento si sono trovati con la massima gestione di flusso di posta che mai nella vita gli era capitato. Quindi ovviamente voi dovete immaginare una potenza di calcolo gestita da milioni di server e che hanno ovviamente delle logiche di sincronia, di situazione di gestione, per cui non è che si può prevedere qualunque situazione in qualunque contesto solo perché sei una grande azienda, solo perché hai un'infrastruttura gigantesca. Tanto per farvi un piccolo esempio videoludico, tenete conto che quando c'è il lancio di un nuovo videogame per il quale magari c'è l'obbligo di connessione nelle fasi iniziali in cui c'è il super hype, in cui tutti lo vogliono comprare, tutti lo vogliono giocare contemporaneamente, eccetera, eccetera, cosa che nel tempo si diluisce, si scandisce la quantità di giocatori contemporanei, eccetera, eccetera, ma all'uscita del gioco, cioè l'ora in cui il gioco esce, che è sempre un'ora specifica, non è a caso, è sempre un'ora specifica dello sblocco, tutti quelli che lo hanno comprato, omettete che ci siano 3 milioni di persone che lo acquistano in quel momento, cosa succede? I server cadono, va giù tutto, adesso negli anni questa cosa è sempre stata risolta, però ecco, dovete immaginare che c'è uno stress test e una situazione di server in generale che un'azienda non può necessariamente prevedere, perché se dovesse fare acquisti per, che ne so, 5 milioni di connessioni in contemporanea per il lancio di un gioco, che poi magari vende 2 milioni, cioè immaginatevi anche il costo di un'azienda, cioè tutto va sempre, ripeto, calcolato e ottimizzato. Quindi cosa succede? Che la stessa Google ha visto questa cosa mai successa prima nel loro campo, per cui anche questa potenza di calcolo loro dei server, eccetera, non gli era mai capitata e quindi ha cambiato la strategia, cioè da adesso ogni utente, ogni piattaforma ha una gestione di posta rallentata, se vogliamo dire così, cioè voi sparate fuori le mail, che siano una, duecento, centocinquanta, un milione di mail, in entrata o in uscita, ma il flusso viene automaticamente messo in una sorta di coda e per ciascun utente c'è quel tipo di risorsa associata e applicata, quindi che voi spediate una mail o che voi spediate milioni, comunque si crea un flusso di, sempre virgolette, ma non perché uso la parola virgolette, mi fa cagare la parola virgolette, però è giusto per dirvi perché non di rallentamento, ok, perché dire rallentamento è sbagliato, però è una gestione di, diciamo così, di applicazione delle risorse per fare in modo che questo tipo di situazione non accada più. Questa è una gestione che a logica avrebbe dovuto già sempre esserci, cioè almeno io, ma non perché adesso voglio fare il figo o quello del giorno dopo, che sicuramente sarà la soluzione dopo che il problema c'è stato, però questa gestione del flusso che adesso applicano questi qua di Gmail, di fatto è lo standard per tutte le aziende che fanno mailing list, cioè tutte le aziende, scusate, che rivendono servizi di mailing list, scusate di newsletter, non di mailing list, di newsletter, perché quando voi acquistate un pacchetto di mail all'interno appunto di un gestione, tipo che ne so, voi dovete fare una newsletter, dovete inviare un milione e mezzo di mail, è ovvio che, certo potete pagare server, potete pagare invi massivi eccetera eccetera, però finite sempre in una coda, perché vi vengono assegnate nel vostro pacchetto che andate ad acquistare anche un tot numero di risorse che possono essere più o meno efficienti, più o meno veloci nello spedire, nello smistare le mail ai vari utenti, però è ovvio che c'è questa sorta di modo calmierato di infilare, di gestire le vostre mail e da adesso anche Gmail lavora in questo modo. Credo sicuramente, anzi certamente non vi ha cambiato la vita sapere questa cosa, però se voi il 30 di novembre siete tra coloro che hanno avuto questo tipo di problema, sappiate che è andata così e da adesso è cambiato il sistema. Io come sempre vi mando un enorme abbraccio, vi auguro come sempre una buona giornata, come sempre anche aggiungo a fine video, iscrivetevi perché sapete quanto è importante la crescita di questo canale che pian piano aggiunge sempre dei tasselli importanti, però c'è proprio grande bisogno che la community che siete voi diate questo piccolo contributo se vi va di farlo, di iscrivervi. Naturalmente è ovvio che guardare tutti e 500.000 video ovviamente è ancora più utile, condividere tutti questi video, di tutti e 500-600.000 video sui vostri social e dite ai vostri amici, iscrivetevi su questo canale, è ancora più importante, però ovviamente non lo pretendo da nessuno, però chi lo fa ha tutta la mia stima. Il mio affetto, vi invito al prossimo video, un saluto, alla prossima e ciao!